Ben trovati da Nikos di Trevi Meteo, insieme diamo uno sguardo alla previsione per la giornata di giovedì perché finalmente un campo di alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo garantirà stabilità e ci farà sopporare una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi su diverse località. Ma attenzione perché venerdì, guardate, questo fronte atlantico in arrivo dalla Francia causerà un graduale peggioramento su parte del centro-nord e poi sabato sarà in viaggio anche verso il sud. Andiamo nel dettaglio quindi della previsione perché giovedì troveremo cieli sereni o poco nuvolosi, vi segnalo solo della variabilità sul basso adriatico, altrove una bella giornata. Nubi alte, informazione poi in arrivo nel corso del pomeriggio e la serata al nord-ovest, preludio di un peggioramento che appunto avanzerà dalla Francia ad ovest. Infine l'ultima grafica ci fa vedere la giornata di stabilità da nord a sud, non ci servirà l'ombrello su nessun regione, vi segnalo più che altro le temperature al primo mattino, scenderemo anche sotto i 2-3 gradi in Valpadana, quindi clima tipicamente invernale all'alba. Dettagli maggiori come sempre sull'app gratuita di Trevi Meteo.